Buon poveriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 ralentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze è chiusa una corsia per un veicolo fermo prima di San Casciano Sud in direzione Firenze. Sulla Fipilì personale su strada per lavori tra la Strassinia e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sulla statale un'Aurelia senso unico alternato per lavori tra Scarlino, Scalo e Stagno. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Sulla statale 62 della Cisa fare attenzione per ghiaccio segnalato tra Monte Lungo e Fornovo di Taro. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!